ciao fans ciao fans è un sabato mattina il primo secondo il secondo da un sacco di tempo anzi da sempre forse in cui luna è a casa beh andiamo quindi fans vi stanno dicendo adesso ci spariamo due ore di statali fino al passo penice e poi giù a bobbio e da lì iniziamo a fare la valtrebbia bene fans siamo a bobbio bello si è una cittadina medievale carina e qua inizia la valtrebbia verso genova verso genova si te che saluto? che devi salutare? te e perché? perché non si si vede nel video così a caso metà video saluti eh vabbè è una clip ah ok e questo qua è il fiume trebbia uh è inizia qua? si bello eh si questa qua è la valtrebbia guarda lì wow guarda qua che slalom slalom prepotente ingarellamento divertentissima quanto è divertente figa tantissimo giù grattata di saponetta eh ma va non ce la fai mica voi entri in casa se vai lungo? basta basta vuoi andare davanti un po' tu? si